L'amministrazione comunale di Trani in relazione alle informazioni diffuse in un comunicato stampa a firma dei rappresentanti provinciali dei sindacati CGL e Cisle Will circa la perdita dei fondi del primo reparto del PAC al fine di evitare inutili e forvianti allarmismi nella popolazione e di in generare polemiche strumentali, chiarisce con una nota stampa che i servizi per la popolazione anziana dell'ambito territoriale Trani-Biceglie sono stati tutti regolarmente interrogati. L'ambito è già da tempo esperito attraverso la stazione unica appaltante della provincia, la gara per i servizi di assistenza domiciliare integrata per il servizio di assistenza domiciliare, il cui esito ha subito un ricorso al tarro. La decisione del Tribunale amministrativo è stata pronunciata il 4 maggio scorso e ancora non è noto il contenuto del dispositivo. Nonostante questo problema, l'ambito non ha mai interrotto le prestazioni in favore della popolazione anziana. Per ciò che riguarda il PAC Infanzia, l'ente precisa che tutte le domande pervenute sono state accolte o comunque sarà completata all'istruttoria nei prossimi giorni. Altri possibili servizi previsti con il PAC Infanzia sono stati compromessi in ragione dell'entrata in vigore della riforma sull'armonizzazione contabile. Difficoltà sono state riscontrate in quasi tutti gli ambiti di zona. Lo conferma il fatto che anche la stessa ANCI è intervenuta sull'argomento intavolando una trattativa con il Ministero dell'Interno. Per le somme bloccate e non utilizzate, l'amministrazione di Trani, di concerto con la Regione e di rappresentanti interistituzionali, si sta comunque attivando nelle opportune sedi per individuare soluzioni di recupero dei fondi con modalità di gestione differenti.